E buongiorno a tutti gli amici del canale DaliukMullet. Il video di oggi nasce perché in vari gruppi di discussione ho visto che ci sono persone che hanno difficoltà a mettere la moto sul cavalletto centrale, parliamo del GS, e quindi ho voluto spendere qualche momento per far vedere la tecnica che utilizzo io, che è una tecnica molto semplice dove non c'è necessità di fare forza, ma si sfrutta il peso del proprio corpo insieme alla leva che viene generata dal cavalletto stesso. Quindi io vi lascio immediatamente al video dopo la sigla, però vi ricordo se non siete iscritti al canale di cliccare in basso a destra, attivare la campanellina, lasciare un like e un commento a questo video che mi serve per continuare a portare contenuti sul canale. Quindi subito dopo la sigla, via con il video. Easy, facilissimo. Uno seconda. Basta fare. Vi faccio rivedere anche da qua, sempre bellissimo. Prendo la moto. Ovviamente la picchia di testa sotto. Faccio così che tocchino tutte e due i pezzi sotto. Basta fare leva. Non ce l'ho da qua. Un po' più. Un po' più. Un po' più. La punta del pietra qua. Un po' più. 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 breve però spero che possa essere un consiglio utile, se vi è piaciuto se avete commenti, se usate tecniche diverse lasciate appunto un commento qui sotto, io vi do appuntamento sabato prossimo con un nuovo video ciao ciao